I campioni, siete tutti noi! Grazie, al prossimo anno! Grazie, arrivederci! Ed eccoci in compagnia intanto di un grande amico, Fabio Vertolacci, ma soprattutto un grande campione dello sport, nella motonautica, ci hai regalato tante emozioni, c'è la tua barca che ha dato grandi emozioni a te, grandi emozioni al pubblico, un richiamo importante di quello che per te è stato una ragione di vita, perché per te lo sport da sempre rappresenta forse una delle ragioni di vita di Fabio Vertolacci, oggi non sei in campo come atleta, ma sei diventato anche un grande organizzatore, hai coinvolto come per la quinta edizione tantissima gente, noi siamo veramente contenti e felici di vedere che trasmetti quello che è stato il valore dello sport a così tante persone, tante le famiglie, sport per tutti, sport in famiglia, sport per tutti. Sì, sì, sport per tutti, mi senti sono senza voce, abbiamo avuto qua i nostri campioni, Fabrizio Baglioni e anche Roberto Mariani per quanto riguarda il moto d'acqua, il freestyle, il flyboard, ma abbiamo avuto anche Alessandro Cremona come istruttore, abbiamo fatto il trofeo CONI, come Federazione Italiana Motonatica, questa è un'iniziativa nella nuova centro federale della Motonatica, qui a Laghetto dell'Eur, ma non solo, è anche una realtà che mi vede impegnato nel cercare di diffondere il mio stile di vita. Lo sport per me ha rappresentato uno stadio di vita. Aggiungiamo della famiglia Bertolacci perché possiamo dire che papà, lo sappiamo, Andrea in questo momento è protagonista nel Milan, quindi comunque stiamo parlando di una famiglia che lo sport ce l'ha proprio nel DNA. Sì, lo sport c'è nel DNA, però quello che è importante è che lo sport ci ha insegnato dei valori che noi siamo riusciti ad applicare nella quotidianità, siamo campioni, se così possiamo definirle, anche da ex protagonisti, almeno per quanto mi riguarda, nella quotidianità, perché oggi è una sfida continua, è diventata dura dover andare avanti, ma noi nella realizzazione di questo evento ce l'abbiamo messa tutto. Un'iniziativa fatta con sforzi veramente grandissimi, un grande ringraziamento a tutti quelli che hanno aderito a questo progetto. Tante federazioni presenti, quante erano? Tantissime. Tantissime, guarda, non mi fa menzionare quelli che hanno aderito. Perché poi ne dimentichiamo qualcuno. Fammi dare una tirata d'orecchio a coloro che ci avevano promesso che sarebbero venuti, non ci hanno regato un gran danno, perché abbiamo saputo coinvolgere le associazioni alle quali queste federazioni, le associazioni sono iscritte, cioè associazioni che pur non vedendo la propria federazione presente hanno aderito al progetto. Questo dovrebbe essere un monito per le federazioni che forse sono state poco attenti. Cinque anni di sport in famiglia, un lustro, un traguardo importante, ma io non mi vorrei fermare. L'abbiamo realizzata senza finanziamenti pubblici, con solo amici che l'hanno sostenuta. Un particolare ringraziamento al mio presidente Vincenzo Iagoianni, che è stato vicino a questo progetto. Tanta la motonautica protagonista, abbiamo visto tante, le esibizioni sono veramente belle da vedere, ma poi coinvolgono anche i ragazzi più piccoli, abbiamo visto come si avvicinano a questo bellissimo sport che è la motonautica. Io non mi sento di menzionare la motonautica, ma permettimi di ringrazionare tutti quelli che vi hanno dato vita, soprattutto nello specchio d'acqua che ha visto per la prima volta il lancio di un paracadutista, e quindi ha entusiasmato anche il pubblico del laghetto. Ma non possiamo non menzionare la canoa, il dragon boat, la vela e lo sci nautico pure. Senza sci quello è stato veramente come una moto d'acqua, ci hanno detto molto molto difficile come... Abbiamo cercato di battere tutti i record possibili, e consentimi in questa fase finale di questa intervista di ringraziare Roberto Diacetti, il presidente di Euro S.p.A., che fin dall'inizio, sapendo le difficoltà che avevamo dovuto affrontare, ha deciso di far sua questa manifestazione, rendendola possibile, concedendoci gli spazi in forma totalmente gratuita, e a lui va un sincero e un caroroso ringraziamento da parte di tutti noi, che ci ha permesso di realizzare questa quinta edizione. Una quinta edizione che si è contraddistinta ancora una volta, ha lottato contro il tempo, non ha mai piovuto durante la manifestazione, e ha avuto una grandissima affluenza. Oggi è l'esempio di quello che può fare questo specchio d'acqua, questo green, che noi abbiamo rispettato, forse l'abbiamo consumato, ma come è un consumo ordinario... Come si deve consumare un campo di calcio quando viene giocato una bella partita? Come si consuma un'area che si vive con civiltà, con rispetto e con attenzione a tutti i suoi... In questo momento sta per chiudersi, vediamo che è veramente... C'è stato un grande afflusso, ma anche guarda che ordine, non è come dopo un concerto, insomma. I nostri volontari hanno cercato sempre e costantemente di mantenere pulita l'area, è vero che eravamo avvantaggiati dal fatto che abbiamo deciso volutamente di dedicarci solo allo sport, quindi non c'è stata un'affluenza legata a altre realtà, ma solo e volutamente allo sport. In un momento come questo era importante che noi dessimo i valori dello sport, che mettessimo in campo i valori dello sport. Ci siamo riusciti, ti ringraziamo a te per aver documentato solo alcuni di questi giorni. Oggi siamo arrivati, lui ci ha detto ieri, Francesco mi sa che viene il diluvio, invece no, siamo riusciti a portare anche una bella giornata che non era sperata oggi. Non solo male ha contribuito anche lui al successo. Perché questo non era previsto, oggi davano brutto. No, davano brutto, invece... Invece è una bellissima giornata, tra l'altro lui non ha detto, là ci sono i cavalli, cioè ha portato anche i cavalli al laghetto dell'Euro. C'era l'equitazione, i ragazzi abbiamo visto come si sono avvicinati con molto entusiasmo anche a uno sport che è quello dell'equitazione, molto bello. Sì, gli sport equestri hanno avuto un ruolo importante, i cani con il salvataggio... Questo è stato un momento per noi bellissimo, perché ci ricorda come il cane è il miglior amico dell'uomo, hanno fatto vedere come effettivamente abbaiavano vedendo soltanto un uomo in acqua. Come non menzionare gli scacchi, il tiro al volo, il pattinaggio, le arti marziali... Ma guarda, credimi, io mi scuso con quanti non sto menzionando, ma siamo a caldo, siamo in diretta, e io dovrei avere un foglio per menzionarli tutti quanti. E invece di menzionarli, ha visto che c'erano tante famiglie, tanti ragazzi giovani che sono avvicinati a tutti gli sport, e noi li abbiamo visti, ecco... Tu quale immagine mi puoi dare una mano? È un ringraziamento, lo puoi fare? Lo stiamo facendo. Con dei flash su quello che è stata questa manifestazione. Ma noi vogliamo sapere da Fabio Bertolacci, un giovane come può scegliere, diciamo, la disciplina migliore per lui? Deve guardare l'idolo? Perché abbiamo visto che si sono avvicinate un po' a tutte le discipline, no? Qual è la scelta vincente per poi essere protagonista nello sport? Devi guardare l'idolo e volerlo imitare, o devi guardare te stesso e capire quale di queste discipline è più adatta a te? Secondo me non devi guardare l'idolo, l'idolo può essere trarante per uno sport, però non tutti gli sport sono praticabili. Cioè il mio idolo è un giocatore di palacanestro, ma sono alto un mera e settanta, non lo posso fare. Ma quello che volevo dirti nel concludere questa intervista, se no diventa veramente troppo lunga, è che io chiudo questa manifestazione stanco morto, ma una felicità nel cuore per aver trasmesso quei valori che hanno caratterizzato la mia vita, la mia vita sportiva, e quindi, perdonami, un po' di commozione c'è, un grazie infinite, grazie a te che sei venuto qua, e un grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa manifestazione, ai 1200 ragazzi che nelle giornate di mercoledì e giovedì hanno riempito questo parco, quindi veramente le abbiamo fatte di tutto, di più. Grazie a Fabio Bertolacci per averci regalato ancora una bellissima giornata di sport, anche se oggi il casco non lo indossi più, ma mai dire mai! Ma mai dire mai perché lo sai che è successo nell'ambito della manifestazione, poi concludiamo, si è svolto il trofeo regionale CONI, e guarda caso, due ex piloti hanno portato i propri figli, dieci gli iscritti nella categoria giovani, quelli compresi tra i 10 e i 14 anni, che faranno le finali nazionali a Cagliari, indovina chi ci sono? Roberto Lopiano con il figlio, che è arrivato secondo, e il figlio di Mario Petroni, che è arrivato primo. Che dire, lo vedi che Sporting Famiglia aiuta i campioni? Grazie, un saluto. Ciao Fabio. Ciao.